Grazie Presidente. Io ringrazio il collega Fassina per aver portato all'attenzione dell'Assemblea Capitolina questa problematica. E poiché sono stata sollecitata in qualità di Presidente della Commissione Politiche e Sociali sull'analogo problema dal Consigliere Figliomeni, anche lui firmatario con me, della mozione del collega Fassina, mi sono presa l'impegno con loro di seguire il tema e di portarlo anche in Commissione per vedere gli ulteriori sviluppi. Noi dobbiamo comunque tenere alta l'attenzione su tutto quello che può migliorare la vita e la qualità della vita dei cittadini romani e anche questa strada dobbiamo percorrerla. Ringrazio il collega Fassina per aver implementato la mozione con il nostro suggerimento anche per aumentare il coinvolgimento delle associazioni e dei comitati per vedere un percorso partecipativo e quindi il nostro voto a questa mozione sarà sì.